Grazie a tutti. Sono in sette al via dopo il ritiro di Zenit del Duomo. Uno Zar degli Ulivi, due Zoe degli Dei, tre Zar Razza Italia, quattro Zia Paola Jet, cinque Zaffiro Rock. In seconda fila, sette Zenotab, otto Zolabad. Macchina che accedera. Lascia i concorrenti. Partiti. Zia Paola Jet e Zaffiro Rocca alle prese. Di dentro solleciti anche Zar degli Ulivi e Zoe degli Dei. L'errore di Zia Paola Jet. Scende così in vantaggio Zaffiro Rocca. Spagna anche Zoe degli Dei in seconda posizione, Zar degli Ulivi. Numero due, Zoe degli Dei, squalificato. Lancia in quattordici e tre alla retroguardia di quelli esenti da errore. Ci sono Zolabad e Zar Razza Italia. Provvede subito moderare l'andatura. Zaffiro Rocca all'avanguardia. Cosine viene fuori un primo quarto in trenta e mezzo, frutto di un secondo paletto in sedici addirittura. Sono rimasti in cinque e gli altri quattro hanno tutti accettato la diminuzione del ritmo in maniera consistente. Zaffiro Rocca leader in 48 addirittura da 1,20 al chilometro ai 600 guida al passaggio davanti alle tribune nei confronti di Zar degli Ulivi e Zenotab. Quindi all'esterno Zolabad che pedinato da Zar Razza Italia arriva al lato del Salchi di Zaffiro Rocca costringendo ad accelerare di nuovo. 1,3 e mezzo, il primo giro di corsa, si è tornati a camminare sotto il pungolo di Zolabad, replica Zaffiro Rocca, cerca di tenere contatto con il leader Zar degli Ulivi all'interno. Problemi un po' di meccanica per Zar Razza Italia, quinto di cinque per il momento Zenotab. 18 il chilometro tattico da parte di Zaffiro Rocca che mantiene tre quarti margine nei confronti di Zolabad, la quale si è stoppata lì. muove in terza corsia, Zar Razza Italia pedinato da Zenotab, 1,32, 1,22, 28,2 di terza frazione, migliorano Zar Razza Italia e Zenotab che vanno all'inseguimento di Zaffiro Rocca, sempre pedinato da Zar degli Ulivi, ingresso da dritto arrivo con Zaffiro Rocca in vantaggio, inseguito da Zar Razza Italia, di dentro Zar degli Ulivi, insiste Zar Razza Italia, finisce forte anche Zenotab, Zar Razza e Zenotab, Zar Razza Italia che si salva di misura da Zenotab al terzo Zar degli Ulivi. Due minuti appena abbondanti il totale, 1,15,4 la media al chilometro. Andiamo a riapprezzare l'addirittura arrivo, la quale trova poco Zaffiro Rocca nonostante la prima parte di gara, secca per quel che riguarda il lancio, ma poi decisamente abbordabile dopo. con Zar Razza Italia che si difende sino in fondo da Zenotab, ci dovrebbe essere un musino abbondante fra i due, poi in errore dopo il traguardo dovrebbe essere Zar degli Ulivi, tenete però il biglietto in attesa del conferma per tutte quattro le prime posizioni. Grazie a tutti.